Oh, allora, tre minuti dedicati a Rocca Grimalda. Io sono entrato qua perché non mi aspettava, è qui, è qui. Cosa raccontiamo ai nostri telespettatori? A Rocca cosa succede? A Rocca, sabato, ci sarà un convegno internazionale straordinario che si è intitolato San Giacomo di Rocca Grimalda e San Giacomo di Compostela. Io ho visto che voi siete arrivati fino a Roma con questa cosa. Certo, siamo arrivati fino a Roma perché è estremamente importante, perché noi siamo proprio su questo percorso per Santiago e siccome abbiamo fatto molte, molte ricerche sulla storia di questo percorso e abbiamo scoperto che abbiamo due cascine che si chiamano La Gioia, una a San Giacomo e una al Trionzo, quel famoso Trionzo dei vini che è molto importante a Rocca Grimalda e dove è stata chiamata Gioia proprio perché gli passava il percorso. Perciò su questo abbiamo a un certo punto trovato un carissimo amico che si chiama Ezio Polarolo e il quale ci ha proposto perché non facciamo un convegno di questo tipo. Poi ne abbiamo parlato anche a Roma con degli amici e tutto così e faremo perciò questa bellissima cosa sabato. E sarà presieduta, la cosa che mi farà molto piacere, dal professor Renato Balduzzi che tutti conoscono, che è Alessandrino. Allora, appuntamento sabato? Sabato alle 3 del pomeriggio nelle cantine di Palazzo Borgata che nell'occasione abbiamo riscaldato con dei termosifoni, abbiamo fatto questo impegno economico perché così avremo poi le cantine sempre funzionanti anche d'inverno. Come cento di ritrovo, no? Cento di ritrovo. Quindi vi aspettiamo sabato e con voi ci vediamo ai prossimi tre minuti. Grazie.